Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video di italiano. Spero che questi giorni che state passando con me ad imparare e a migliorare il vostro italiano stiano andando bene e spero che questi video siano utili e interessanti. Di sicuro ascoltarli più volte vi aiuteranno a migliorare anche il vostro vocabolario italiano di parole ed espressioni italiane. E a proposito di espressioni oggi volevo insegnarvi tre espressioni molto comuni tra le più usate dell'italiano parlato nel quotidiano. Probabilmente alcune le avrete già sentite perché sono davvero davvero famose, diciamo così. La prima espressione che oggi vi spiego è l'erba del vicino è sempre più verde. C'è la traduzione anche in inglese e sicuramente in altre lingue ma ve la spiego in italiano. Cosa significa questa espressione? Questa espressione ha il significato di quando le persone si lamentano o non si accontentano di quello che hanno o della situazione nella quale vivono. Quindi noi vediamo la casa del vicino e ci sembra più bella, la macchina di quelle persone ci sembra più bella, vediamo la situazione familiare o di amicizie di quelle persone e ci sembrano più fortunate e quindi è un non accontentarsi. Poi però magari arriva una persona che vive in una casa vecchia e vive in una casa che dove deve pagare un affitto alto, magari una casa piccola e allora ci rendiamo conto noi che magari viviamo in una casa bella o in una situazione positiva, ci rendiamo conto di essere comunque non fortunati però di stare bene e quindi l'espressione l'erba del vicino è sempre più verde, è un invito anche a dire quello che ho adesso mi va bene. Poi posso sempre fare qualcosa per migliorare, però non lamentarsi troppo perché purtroppo le cose potrebbero anche andare peggio, quindi è una sorta, io la vedo anche come un invito alla gratitudine. Adesso sto bene perché c'è gente o ci sono situazioni peggiori o gente che può stare peggio, quindi io l'erba del vicino mi sembra solo più verde, ma magari sono io che per gli altri ho l'erba migliore, ho il prato più bello e sono messa meglio. La seconda espressione è non mollare, non mollare è molto informale ed è l'espressione più formale sarebbe non arrenderti o non arrendersi. Non mollare quindi significa vai avanti, continua per questa strada, continua con questa cosa, continua con questo pensiero, modo di pensare. Ad esempio state facendo una gara e sentite ai lati la gente che vi dice non mollare, continua, vai avanti, oppure state imparando l'italiano e io vi dico non mollate, continuate ogni giorno a guardare questi video per migliorare e imparare questa lingua in modo semplice, utile e anche divertente. La terza espressione è un'espressione molto molto usata ed è un'espressione anche di gentilezza. L'espressione è figurati o in modo formale si figuri. Il significato è un sinonimo invece di dire sempre prego, rispondere al grazie con un prego possiamo dire figurati oppure si figuri che significa l'ho fatto volentieri, non c'è problema. Ad esempio una signora anziana che avete aiutato o alla quale avete portato la spesa in casa può dirvi grazie per avermi aiutato, grazie per avermi portato la spesa. E voi potete dire si figuri signora mi sembrava giusto aiutarla oppure grazie un amico può dirvi grazie per avermi invitato a cena e voi potete rispondere figurati mi faceva proprio piacere vederti. Quindi ecco qua le tre espressioni che potete iniziare ad usare da subito sia nell'italiano scritto che nell'italiano parlato. Usate queste espressioni, usate anche i modi di dire che mi sentite dire durante questi video per migliorare il vostro italiano e aumentare e migliorare sempre il vostro livello di comprensione e anche il livello parlato. Io vi ringrazio per aver guardato questo video, lasciate come sempre un mi piace e noi ci vediamo domani. Ciao!